Buonasera, siamo qui con Alessio Salis, neoacquisto della Vadese Calcio. Buonasera a tutti. Alessio, quali sono stati i motivi che ti hanno portato ad accettare le proposte di una squadra neopromossa in prima categoria? I motivi sono molteplici. Diciamo che non è stato semplice andare via da Legge, visto che gli ultimi 4 anni che ho fatto sono stati lì. Ed è una società a cui sono legato fin da bambino. Certo che parlare con una persona come Toni, come Toni Saltarelli, che tutti conosciamo a livello di elettantistico, le motivazioni te ne mette tante. Che dire, spero che la stagione sia una stagione molto positiva, sotto tutti i punti di vista. A proposito di stagione, hai già parlato con il mister, qual è la previsione del ruolo che avrai all'interno della formazione della Vadese? Io nasco centrocampista. Non lo so, in un 4-3-3 ad esempio mi piace fare la mezzala. Negli ultimi due anni ho avuto la possibilità di giocare più avanti e diciamo che mi diverto di più. È il ruolo che tutti mi dicono che dovrei fare. e spero quest'anno di farlo decisamente di più. Gli obiettivi con Toni sono quelli, però sono pronto a disposizione per fare qualsiasi tipo di ruolo. Ecco, quali sono gli obiettivi della formazione Azzurro Granada per la prossima stagione? Gli obiettivi sono una società appena nata, in continua crescita. Gli obiettivi sono di fare sempre meglio. È una categoria nuova, essendo una società nuova. Gli obiettivi sono quelli di fare bene il prima possibile, nel senso di salvarci il prima possibile. Per tutto quello che viene in più noi non ci accontentiamo. Inchistasu. Inchist εδώ Rukilla. Inchi.